E' ritornata all'invasione pacifica di Lucca Comics & Games per la sua prima giornata dell'edizione 2021 che è l'edizione della ripartenza. Un'invasione molto bella, bellissima, straordinaria, un colore eccezionale in una giornata tra l'altro anche dal punto di vista meteorologico vicina alle nostre condizioni migliori perché oggi si sta molto bene. E' tornata questa invasione, io raccomando la prudenza come sempre perché ricordo che non è ancora esaurita l'emergenza sanitaria per cui raccomando a tutti di muoversi per la città, riprendere questa vivacità, questa voglia, questo desiderio anche di nuove prospettive è un fatto molto bello, fa interiormente bene, mi sento di dire questo. La tua ultima è Lucca Comics & Games da sindaco, che sensazioni provi? Lucca Comics & Games è una manifestazione che si è molto consolidata e che è diventata tra i più importanti nel mondo, abbiamo raggiunto nel 2019 dei livelli eccezionali, quest'anno riprendiamo il percorso perché resilienza come dico spesso significa salto all'indietro, quindi ritornare alle condizioni in cui eravamo, questo è il momento di un inizio che vogliamo impostato sempre su una dimensione culturale ampia, su una interculturalità potente tra i vari momenti perché i comics poi raccolgono varie stanze di carattere culturale, dalla musica, l'animazione, poi il mondo dei giochi è un mondo eccezionale. 22.500 persone al giorno, questi sono i biglietti venduti ma molte più persone si sono affollate in città per vedere quanto succede dal punto di vista del fumetto e del gioco intelligente che sono al centro della manifestazione. Stamattina alle 11 c'è stata l'inaugurazione ufficiale con un po' di ritardo istituzionale con il ministro delle politiche giovanili Fabiana Dadone e tutte le istituzioni a partire ovviamente dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, c'era l'assessore regionale Stefano Baccelli, c'erano tutte le istituzioni civili e militari per un momento di festa, di ripartenza, tutti hanno sottolineato questo aspetto. E ha un grande potenziale, rappresenta non solo per la città ma per tutto il paese uno spazio dedicato ai giovani che è quello che sostanzialmente ci chiedono e chiedono in particolare a me come ministro un moltiplicarsi di manifestazioni come queste, spazi tutti dedicati a loro e alle loro passioni nel paese. Assolutamente sì, è un bel segnale di ripartenza, chiaro ancora con delle restrizioni, con delle limitazioni bisogna continuare a stare attenti, però penso che sia davvero un bel segnale di ripartenza perché si ha la possibilità di vederla fisicamente, non come l'anno scorso che ancora era da remoto, quindi con un impatto completamente differente, però questa è una buona occasione anche perché quest'anno siamo riusciti a connetterla con un'altra delle deleghe che ho, quella degli anniversari nazionali, abbiamo un padiglione dedicato proprio ai cento anni del militegnoto. Sono contento che quest'anno ci siano stati anche dei tratti nuovi e a mio giudizio molto belli, penso agli autoritratti dei fumettisti 50 che in qualche modo si collegano a quella che è la galleria degli uffizi e al famoso patrimonio di autoritratti che lì per gli artisti è il più grande, più esteso che c'è al mondo, oppure tante iniziative che mi hanno colpito, questo rivederle stelle all'insegna di Dante, quest'anno i 700 anni e Dante amava Lucca, è stata una cosa molto bella, insomma accanto a quello che è la cultura popolare che può venire c'è dietro anche tanti significati da un punto di vista culturali, artistici che Lucca riesce a trasmettere e dietro Lucca tutta la Toscana. Iniziano ovviamente gli eventi, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti di importanti con dei protagonisti del mondo del fumetto, del gioco, del fantasy, del cinema ed sarà una quattro giorni veramente tutta da vivere. Ci sono stati ovviamente come tutte le prime giornate alcuni disagi perché il meccanismo necessario per il Covid è quello di ritirare un braccialetto facendo una coda per la misurazione della febbre e per l'esibizione del Green Pass. Green Pass che in alcuni padiglioni poi deve essere riesibito, questo ha creato lunghe code in tutti i padiglioni e in tutti gli eventi. Si starà cercando soprattutto per i giorni in cui si prevede maggiore afflusso che sono quelli di sabato e domenica e di lunedì che è festivo di alleggerire un po' questi problemi perché possono creare delle difficoltà nell'afflusso in città e nell'afflusso alla fruizione dei padiglioni. Ho l'onore di rappresentare a Toscana, a Lucca come assessore tra l'altro ai trasporti e quindi il contributo in particolare di Trenitalia con questi 100 treni straordinari confidiamo di portare qualcosa come 250.000 persone tra treni ordinari e treni straordinari e la presenza di questa mattina è già emozionante perché è la prima mattina del primo giorno e vediamo già lunghe file di questo straordinario popolo pacifico che partecipa ai comics. È un ritorno per me graditissimo perché è come essere tornato a casa e i comics di oggi in realtà rappresentano qualcosa di più probabilmente perché visto l'epoca che abbiamo e il periodo che speriamo perlomeno nel suo aspetto più parossistico ci siamo lasciati alle spalle è un modo per ritornare a una normalità e alla bellezza di una mostra che sostanzialmente ha illustrato il nome della nostra città in tutto il mondo. Devo dire che anche quest'anno avremo meno presenze tuttavia credo che le forze dell'ordine e la prefettura avranno ugualmente il loro bel compito da portare avanti perché ho notato in città la presenza di moltissimi giovani che evidentemente sono fortemente attratti dalla manifestazione e hanno dato una nota di colore tra l'altro alle nostre strade cittadine. Comunque è ripartita Lucca Comics & Games che sia una festa davvero per tutti.